Torno subito. Buongiorno. Un preside nero. So che la stupirà, ma la schiavitù è stata abolita nell'Ottocento. Addirittura! Pure il diritto di studiare. Lei sì che ha un colorito simpatico. Sì, Sieda. Allora. Allora, sua figlia ci racconta che lei non vuole il DDL, Zan. Ci mancherebbe. Gesù non vuole. Beh, ecco, in realtà la scuola è laica e vorrebbe... Ma c'è il crocifisso in classe. Insomma, non vorrete traviare dei piccoli angeli? No, nessuno ti li tocca. È solo una giornata di... Volete insegnare a mia figlia il gender? Le cose gay? È soltanto una giornata divulgativa. E se poi le piace? Se mi chiederà di giocare a calcio? Mi sembra normale. Così le insegnerete tutte quelle cose gay per rendere questo mondo gay ancora più gay. Eh, che cazzo. A volte mi sembrate proprio ritardati. Sembra che... Che usiamo la testa? Senti, ti sto dicendo... Che tua figlia non si confonderà. Nessuno cambierà sesso dal giorno alla notte. È solo una tutela. Contro la violenza. Contro gli omofobi come te. Quindi... E che mi dici dei ciccioni? Cosa c'entrano i ciccioni? Si parla di disabili. E minoranze che finalmente poi potranno... Utero in affitto. No. Un'altra cosa che non c'entra un cazzo. Ecco, noi pensiamo che sua figlia sia aperta a rispettare le differenze. Ma a volte critica i nostri testi dicendo che sbagliano. Sì, lei ragiona con la sua testa. Sa che i gay sono contro natura. Ogni differenza merita di essere protetta nei ragazzi. Differenza? Nessuno al mondo dovrebbe vergognarsi di essere come è. Intende anche le cose sessuali? Qualsiasi tipo di differenza, che va da quelle culturali a quelle legate all'identità di genere, e all'espressione della propria emotività. Tipo il gender. Lei ha una fissazione con il gender che mi sospettisce parecchio. Insomma, teme di scoprire qualcosa di irrisolto. La legge Zan serve solo a privilegiare le lobby gay. Se Dio ci avesse voluto così molteplici, così diversi, avremmo potuto cambiare sesso da soli. Invece qui nessuno pensa ai bambini che verranno portati verso il peccato da voi pervertiti, dritti, dritti, tra le braccia di Satana. Satana. Ok, io ci rinuncio. Lei mi tira fuori Satana, Gesù e la Madonna. Cazzo c'entra con il DDL Zan! Potrà continuare a dire che la famiglia tradizionale è bella e che le piace la patafiocca. Ok. Sì, sapete cosa? C'è la messa domani mattina. Sapete le canzoncine col coro, gli Ave Maria, i segni della pace. Perciò sappiate che... Dio è con noi. Com'è andata? Ti ho fatta sospendere. Cosa? Qui, Pillon, passo. Simone, hai scordato i DDL in ufficio. Ma di che stai parlando? Dei tuoi gingilli. Ci sta giocando il cane. Ti è piaciuto? Sì, sì, il video è carino e pot... No! Ti è piaciuto? Certo, mi è piaciuto. Ho detto che... Bene, iscriviti adesso e seguili su Instagram subito. Dai! Su serio, supportateli, seguiteli. Non so perché siate ancora qui. Devo chiederlo tipo... Ehi tu! Iscriviti! Meglio farlo subito.